Questa sera a specchio parliamo di resistenza, parliamo di fascismo, parliamo di cultura soprattutto perché parliamo di una serie di incontri che è già iniziata, il futuro della memoria abbiamo con noi in studio Tiziana Pirola, benvenuta, di Arts che è capofiglia di questo progetto ce lo spiega, ce lo introduce meglio? Sì, il progetto è abbastanza complesso, abbiamo avuto l'idea di fare questo approfondimento perché il futuro della memoria ha come sottotitolo, la storia va narrata, su stimolazione di una linea di finanziamento che Fondazione Cariplo da qualche anno è l'interlocutrice fondamentale della progettazione culturale in Lombardia perché destina cospicui fondi a sostegno delle attività. Il bando è favorire la coesione sociale tramite le biblioteche di pubblica lettura, io che mi trovo nella doppia veste di organizzatrice culturale e a mia volta di bibliotecaria sul territorio, insieme ad uno storico archivista Lorenzo Pezzica, è un referente progettuale che è Filippo Cecchini Manara, con la grande disponibilità di Marco Locatelli che è coordinatore del sistema bibliotecario dell'area nord-ovest, cioè tutta l'area che copre la Val Brembana, la Valle Imani eccetera, abbiamo progettato questa cosa. Questo progetto contiene in sé innanzitutto il ciclo che abbiamo appena iniziato, lettura in biblioteca, sono otto incontri con autori, sia scrittori sia saggisti che si occupano in questo ciclo culturale in special modo del periodo fra la prima e la seconda guerra mondiale. Abbiamo aperto con Roberto Chiarini a Brembate di sopra che ha approfondito la figura di Antonio Locatelli, una figura molto controversa ma al quale dedicata il frontone di Casa della Libertà riporta ad Antonio Locatelli, eroe della guerra e della rivoluzione fascista, tre volte medaglie d'oro e adesso ci siamo avventurati nella guerra partigiana con Angelo Bendotti e poi proseguiamo con altri appuntamenti che parlano sempre di questo, poesia e storia e poi abbiamo modo di approfondire man mano. Certo, la prossima settimana avremo questo, possiamo anche andare con i vari programmi, soprattutto dire a chi è destinato questo progetto, chi può venire ad assistere, io penso tutti i studenti piuttosto che persone che vogliono ripercorrere i momenti della storia italiana che spesso vengono anche un po' dimenticati. Sì, sì, la collocazione infatti avviene nelle biblioteche, le biblioteche della provincia di Bergamo sono un pilastro come abbiamo scritto nel progetto, è l'antenna sensibile sul territorio perché le biblioteche non dispensano solo libri o documenti perché poi in biblioteca ormai si trova di tutto, dai DVD ai CD, ciò che si vuole, la possibilità di avere internet e quant'altro, gli stessi libri vengono ordinati a casa, gli e-book che vengono messi a disposizione del sistema, ma in più la biblioteca è proprio il luogo dove le persone frequentano e hanno offerte culturali di vastissima natura. Quindi noi abbiamo voluto intercettare questo modo di trovarsi nella comunità e ripeto ancora il sottotitolo, la storia va narrata, incontrare le persone, abbiamo dei successi a detta dei bibliotecari più che buoni, avere in sala 40 persone oppure lo scorso anno Fulco Quilici a San Pellegrino con la sua storia oltre 100 persone con un'atmosfera che si crea nella sala di grande compartecipazione perché l'ambizione di questo progetto è anche quella di coniugare i grandi temi della storia nazionale con la storia locale, anche qui non c'è più questa divisione per cui se dobbiamo parlare della storia, la storia locale è di serie B, assolutamente la storia si compone di entrambe le questioni, infatti l'incontro a Petosino avviene di fronte al muro dove il 26 settembre del 44 una serie di partigiani della Bergamasca furono fucilati dal famigerato Resmini e un abitante di Petosino fu ammazzato solo perché ebbe l'ardire di commentare Poeris Cech e fu ammazzato anche lui. Quindi abbiamo ancora persone, non sono morti tutti quelli di quei tempi e a me personalmente interessava insieme al gruppo dei progettisti di creare questa unione fra il racconto e le grandi storie. Quindi speriamo poi, il programma ha anche Maurizio Maggiani, un grandissimo scrittore. Certo, il 27 ottobre, Maurizio Maggiani racconta la resistenza. Maurizio Maggiani in questo caso, gli incontri sono sempre stati proposti il venerdì alle 20.45 nel caso di Maurizio Maggiani che ha problemi di salute, abbiamo spostato il venerdì al sabato però solitamente teniamo questo incontro serale. Anche la scelta dell'incontro serale può essere faticoso, uscire la sera dopo una giornata di lavoro e di studio, ma sempre in collaborazione con gli assessori e con i bibliotecari c'è un grande dibattito in corso anche su come organizzare le persone e fare vivere il proprio paese alla luce degli accadimenti nazionali. Certo, poi andando avanti nel programma, venerdì 9 novembre, Mimmo Franzinelli con il prigioniero di Salò, Mussolini, la tragedia italiana. È una novità, in libreria in questi giorni, le librerie lo stanno proponendo nella loro diciamo così vetrina, Mimmo Franzinelli ha una vastissima bibliografia, è della provincia di Brescia, ha studiato però a Louvre e questo signore, questo autore indaga tantissimi temi e abbiamo particolarmente piacere di averlo poi a Ponte San Pietro che è la biblioteca capofila del sistema. E poi andiamo ad Aved Bidussa. Certo, per non dimenticare la memoria sulla Shoah, il 16 novembre. Perché lui ha un tema, quello della post-memoria, anche lì noi discutiamo e diciamo ma cos'è la post-memoria perché è una definizione un po' complessa. Lui dice rispetto alla Shoah quando saranno tutti morti? Chi ci racconterà le cose? Perché abbiamo anche i negazionisti cioè sono le persone che negano la Shoah come negano l'allunaggio per cui anche quello è un tema molto forte. E poi passiamo alla direttrice dell'ISREC, Elisabetta Ruffini che ne fa un racconto da allora ad oggi e poi arriviamo a Furio Biagini che è questo professore che insegna Lecce che parla di ambiguità di Mussolini tra fascismo, ebraismo e sionismo ad almeno San Bartolomeo. Diciamo una serie di incontri interessanti, io credo. Come si fa? Basta venire, informarsi sul sito, il futuro della memoria, insomma i modi per informarsi sono tanti, ovviamente le biblioteche che hanno aderito da Brembate di sopra a Ponte San Pietro, a Verdellino, a Suiso eccetera, fanno un battage con i propri utenti nella propria biblioteca. Noi abbiamo questo sito dedicato, che è ilfuturodellamemoria.it, abbiamo una detta stampa, Silvia Lazzari, che è molto più giovane di me e quindi utilizza Facebook, Twitter, tutte queste cose, anche in collaborazione adesso anche Fondazione Cariplo ha lanciato tutta questa dimensione di Twitter e quant'altro, mi dovrò adeguare anche io prendendo un telefono all'altezza. Ma c'è bisogno anche di contenuti, c'è chi pensa ai contenuti, c'è chi pensa a come veicolarli. Noi ad esempio pensiamo a come veicolarli e cerchiamo di darvi una mano. Infatti questo è. Allora io la ringrazio, il futuro della memoria, abbiamo così a Spizzi e Bocconi presentato un po' quello che sarà una serie di incontri che già è iniziata, ma tutti molto interessanti sui temi a cavallo, chiaramente della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza, la figura di Mussolini, la Shoah, insomma i temi sono questi e sono anche molto coinvolgenti, sono molto coinvolgenti, c'è modo proprio anche di partecipare in modo molto molto intenso. Futuro della memoria.it, ringrazio Tiziana, ci rivedremo poi magari nel corso di questa rassegna, Specchio torna domani. Allora? Va bene, va bene.